buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi torniamo a parlare di biomassa oggi è un video interessante sarà un po lungo quindi mettetevi comodi se vi interessa l'argomento proviamo ad alimentare una caldaia policombustibile con vari componenti di origine ovviamente vegetale abbiamo il favino l'avena il mais e i semi di girasole il test verrà svolto in due modi diversi accensione con il solo componente e accensione del componente mischiato al 50 per cento con del pellet di buona qualità ho ancora qualche sacco quindi sono ricco mannaggia loro e vediamo un attimino come risponde sia in termini di accensione che in termini di fiamma l'esperimento durerà giusto il tempo di vedere la fase di accensione e la fase di fiamma per vedere se questi biocombustibili possono fare al caso nostro oppure meno ci vediamo dopo la sigla rieccoci sul canale allora prima di tutto questo video è soltanto un esperimento serve soltanto per capire un po come risponde la caldaia si è alimentata con combustibili diversi dal pellet del nocciolino che già abbiamo visto in altri video non amo molto bruciare questi biocombustibili perché comunque si solleva un discorso etico nel senso che questo è cibo e se pensiamo a chi sta peggio di noi bruciarlo poi nella stufa insomma è un peccato però ora voglio lasciare da parte il discorso etico e voglio concentrarmi soltanto sul discorso fisico per vedere con un po come risponde altro discorso da fare molti di questi componenti sono più costosi del pellet sono al pari ad esso quindi non mi soffermerò sul discorso del costo vi lascio poi in sovrimpressione il costo al quintale di ogni biocombustibile quello che ho pagato io è siccome il costo è un parametro molto volatile dipende dal periodo dalla stagione dal luogo dove si compra quindi tenetene conto ma fino a un certo punto allora ultima premessa vedrete sicuramente un approfondimento anche sul blog ovviamente lo vedrete anche su altre testate perché ultimamente mi stanno copiando sia spezzoni di articoli sia spezzoni di video da una parte può far piacere perché magari sono stato uno dei primi a parlare di queste cose soprattutto per la modifica al bracere e quant'altro d'altro canto c'è un lavoro dietro quindi quando ti copiano palesemente i contenuti senza citare la fonte insomma non fa molto piacere la voglia scrivere alle persone ci sono anche testate giornalistiche di una certa importanza che prima ritenevo di una certa importanza adesso sono soltanto meri copioni e basta va bene dai finiamo qui con la polemica e cominciamo a lavorare prima di procedere al test vediamo soltanto il costo e a cosa serve ogni singolo componente allora questo il favino avevo fatto un video lo scorso anno serve per il sovescio arricchisce il terreno naturalmente di azoto non comporta nessun tipo di lavorazione serve per non lasciare il terreno incolto durante il periodo invernale in primavera si taglia ed è pronto il terreno per essere poi seminato con le colture che vogliamo noi allora questo costa circa 80 euro al quintale questa è l'avena per alimentazione animale va a circa 70 euro al quintale il mais al momento quello più costoso per alimentazione animale costa circa 100 euro al quintale questi sono i prezzi che ho pagato io e questi sono i semi girasole a 80 centesimi al chilo quindi 80 euro al quintale il pellet utilizzato poi per la seconda parte del test quello che miscelerò al 50 per cento con questi componenti è un n plus a 1 quindi in buona qualità ne ho ancora 5 6 sacchi li tengo solo per gli esperimenti attualmente siamo a metà ottobre il costo al sacco di questo pellet qui da 15 kg vai dai 10 ai 13 euro circa grazie all'ingordigia dell'essere umano bene evitiamo le polemiche e andiamo a fare i primi test ultima cosa peso specifico io voglio bruciare da solo circa un chilo di ogni componente però adesso vi mostro un attimino quant'è il peso specifico di ogni componente quindi dovrò poi regolare la quantità da mettere dentro ad esempio la tara e sono 50 grammi per tutti 420 grammi compresa la tara per i semi di girasole gli ho riempiti più o meno tutti della stessa quantità il mais 690 grammi l'avena 548 grammi il favino ha il peso specifico più elevato 790 grammi allora piccola premessa per quanto riguarda la regolazione della caldaia la utilizzerò a pellet quindi il mio caso è la ricetta numero uno quindi mi metto nelle condizioni di chi ha una stufa una caldaia pellet normalissima che magari non è in grado che non ha voglia di regolare i parametri quindi la utilizzerò a pellet comincerò a bruciare singolarmente i vari componenti la mia una caldaia policombustibile ha una coclea di una certa robustezza se sento rumori molesti ovviamente ve lo dico e ve lo sconsiglio a priori se magari con il favino che è molto duro sento che fa rumore ve lo dico ovviamente poi vi regolate di conseguenza quindi nessuna modifica i parametri e vi dico se ci sono poi i rumori sulla coclea lo sentiamo insieme ok il primo test lo farò col favino ho pulito quanto meglio potevo il bracere ho fatto l'operazione di caricamento quindi ho svuotato la coclea del 90 per cento di quello che c'era dentro che era nocciolino e pellet la tramoggia è vuota ed è pulita al meglio che ho potuto adesso metto un chilo di favino faccio l'operazione di caricamento fino a quando non vedo che esce nel bracere dopodiché avvio l'accensione ecco qui c'è circa un chilo di favino arriva giusto giusto l'altezza della coclea spero che basti vediamo un po se riesco a fargli fare il ciclo con questo chilo qui quindi spero che possiate vedere fa in fase di accensione abbastanza fumo e fa anche un brutto odore comunque questa è una canna qui bentata norma in acciaio doppia camera siamo circa 7 metri di altezza rispetto alla caldaia se andiamo a vedere la camera di combustione allora sono passati circa 10 11 minuti da quando ho avviato l'accensione e si vede la prima fiamma tengo spenta la luce perché vi faccio vedere spero che si veda la luce della fiamma se apro si spegne immediatamente adesso il tempo di farla prendere un attimino se prende apro poi la paratia e vediamo insieme la fiamma che tipo di fiamma fa comunque circa dieci minuti sono passati circa 15 minuti dall accensione chiudo subito perché altrimenti mi si spegne la fiamma poi non parte allora grossi rumori della coclea non ne ho sentiti a parte un paio di clac però tenete conto che questa è una caldaia policombustibile la coclea ha una certa dimensione non è quella delle stufe piccoline quindi a priori vi sconsiglio di utilizzare semi grossi e duri come questo questo il favino vedremo col mais se abbiamo gli stessi problemi ma questo è il più duro che ho sono passati 21 minuti dall accensione per completezza di informazioni vi do i dati di targa allora velocità ventolo fumi 1400 giri che è quella standard programmata nella casa per funzionare a pellet ecco qua eravamo partite le 11 e 37 più o meno è ancora in fase di accensione voglio che si stabilizzi spero che mi basti quel chilo di favino la fiamma c'è per adesso è bella però siamo in fase di accensione quindi sto aspettando la stabilizzazione poi riapro e vediamo com'è il fumo fuori si è attenuato allora nonostante la fiamma non ha raggiunto l'impostazione minima di temperatura quindi si è avviata da sola l'operazione di spegnimento spegnimento vedete errore 12 non ha raggiunto la temperatura quindi come accensione singolarmente il favino non va bene almeno su questa caldaia qua però questa come vi dicevo è la policombustibile questa dovrebbe digerire tutto l'impostazione pellet 1 che è solo pellet sicuramente non va bene sarebbe da fare una prova col pellet 3 cioè col menu 3 che è per guscino ciole quant'altro adesso però finisco questa serie di test e poi eventualmente farò un altro video solo su quello ok allora visto che in fase di spegnimento guardiamo solo dentro cosa c'è ecco vedete gran parte le braciere è pieno ma non ce la fa non riesce a bruciare ok cominciamo col mais adesso farò andare il caricamento per per togliere gli ultimi chicchi di favino come vedo uscire primi chicchi di mais spengo il caricamento e avvio l'accensione il braciere è completamente pulito avete visto l'operazione di pulizia dopo l'errore mi è partita da solo quindi sono stato contento perché mi ha svuotato tutto quanto sono le 12 e 14 però prima abbiamo il caricamento abbiamo l'ultimo favino che adesso toglierò ovviamente l'unica cosa da precisare che adesso il braciere è leggermente caldo ovviamente no quindi forse la combustione sarà leggermente facilitata ecco avete sentito il tac ha beccato un favino un chicco ecco il primo mais chiudiamo pulisco e avviamo sono le 12 e un quarto avviamo allora sono passati circa 12 minuti 10 12 minuti dell'accensione la prima fiamma l'ho vista dopo i primi dieci minuti allora guardate ok apriamo vediamo un po poi chiudiamo subito non ho sentito alcun rumore della coclea questo è un buon segno però torno a dire questa è una coclea per caldaia non per stufa però al momento sicuramente va molto meglio del favino ecco praticamente non si vede nulla sulla combustione del mais come vedete non non fa fumo ha fatto giusto un filo prima alla prima accensione adesso che ancora in fase accensione fumo praticamente non ne fa quindi questo è un buon segno dunque a distanza di una ventina di minuti è andata in stabilizzazione quindi è in funzionamento normale è a potenza 5 però la fiamma a me non piace molto guardate adesso apro per andare va ma secondo me manca un po d'aria quindi adesso appurato che col mais siamo riusciti a accendere la caldaia ora spengo tutto faccio la fase di spegnimento pulisco e cominciamo con l'avena due parole solo sulla coclea non ho avuto alcun tipo di problema e l'odore fuori comunque era fastidioso è dalla canna fumaria usciva un odore che sicuramente dà un po fastidio ok pulisco tutto e iniziamo con l'avena ok è il momento dell'avena faccio l'operazione di caricamento vediamo un po come lo carica la coclea ma ovviamente questo è uno scherzo da ragazzi per qualunque tipo di stufa e caldaia perché è molto molto leggero e nero quindi non ci sono problemi di sorta insomma appena vedo arrivare l'avena ecco sta arrivando chiudo ok sono le 13 56 avviamo l'accensione il bracere è freddo perché l'ho pulito anche a mano vediamo quanto tempo impiega per accendersi va una decina di minuti circa sarà sicuramente ok prima fiammata dopo 8 minuti dall'accensione vi mostro più o meno 8 9 minuti eccola qui vediamo fuori i fumi allora i fumi al momento sono praticamente impercettibili la fiamma è partita subito e non ci sono fumi dalla canna fumaria e non ci sono neanche cattivi odori questo è un buon segno ok aggiornamento sulla combustione dell'avena sono passati circa 20 minuti la fiamma sembra bella adesso apriamo materiale c'è la coclea gira senza alcun tipo di problema ovviamente ora vediamo soltanto se termina la fase di accensione e va in modulazione vuol dire che è andata abbastanza bene bene la fiamma è bella adesso lo guardiamo ma prima volevo farvi vedere che è in modulazione la stufa sta lavorando molto bene con l'avena quindi secondo me questo al momento è il biocombustibile migliore dell'otto dei 4 ma mi manca ancora il quarto e sono curioso vediamo un attimo soltanto la fiamma poi spengo non è male spengo l'odore anche non è per niente fastidioso perfetto fase di spegnimento aspettiamo dieci minuti pulisco tutto faccio raffreddare ripartiamo sto facendo lo scaricamento dell'avena e mi sono accorto adesso infatti ve lo volevo dire che qualche chicco passa attraverso il foro da 3 mm vedete ho caricato adesso girasole infatti adesso comincio col test con girasole ma dell'avena ecco vedete qualche chicco esce fuori giusto per dirvi anche che attraverso i fori a 3 mm l'avena ci passa non molto perché l'operazione è riuscita bene però qualcosa si perde inizio adesso il test con il girasole ho già fatto l'operazione di caricamento secondo me questo è uno dei biocombustibili migliori comunque vediamo un po come si comporta facciamo l'accensione 14 44 si tocca con le mani quindi è tiepido 8 minuti dopo dalla via l'accensione ho avuto la prima fiammata ed è già una bella fiamma adesso la guardiamo insieme molto bella molto bella nessun rumore dalla coppia ovviamente fumi girasole assenti completamente anche fase accensione appena appena ho guardato prima giusto giusto uno sbuffo è una bella fiamma davvero forse biocombustibile migliore dell'otto dei quattro ha preso subito in otto minuti avevo acceso è una fiamma bellissima non ho toccato col parametro ovviamente al pari degli altri ora aspetto solo che vada in modulazione dopodiché spengo e comincio il test al 50 per cento del pellet guardiamo solo dentro una gran bella fiamma guardate che bella siamo arrivati in stabilizzazione veramente 14 minuti dopo aver acceso quindi è perfetto ovviamente siamo partiti da 44 gradi perché avevo finito il test poc'anzi della vena spengo pulisco faccio raffreddare e cominciamo i test la prima miscela e al 50 per cento mais pellet ho messo mezzo chilo e mezzo chilo un chilo giusto per vedere l'accensione e la stabilizzazione della caldaia questo va sono sicuro che funziona infatti proverò soltanto col mais e proverò con il favino o metto i test dell'avena dei semi girasole perché quelli partono anche da soli quindi a maggior ragione col pellet sprechiamo solo tempo sappiamo che funziona ma sono molto curioso per quanto riguarda il mais e il favino iniziamo il test col mais col pellet sempre un chilo mezzo chilo mezzo chilo 50 per cento il bracere è pulito c'è solo qualche chicco di semi girasole che mi è uscito adesso dalla coppia nonostante abbia fatto il caricamento non appena vedo uscire il pellet mi fermo pulisco ripartiamo ecco ci siamo mai spengo la 15 15 accendiamo ok 12 minuti dopo partita la fiamma ovviamente io su questo non avevo alcun dubbio è vedete piano piano vediamo un po come va la modulazione vediamo soltanto i parametri vedete velocità della ventola e sempre 1400 giri al minuto temperatura fumi caldaia si siamo in torno ai 40 prima eravamo arrivati a 50 gradi poi l'ho fatta raffreddare un attimino a distanza di 22 minuti siamo andati in stabilizzazione vediamo brevemente la fiamma è la fiamma molto bella guardate molto molto bella spengo tanto c'è poco da vedere ok e poi facciamo un ultimo test con il pellet e il favino allora si sta raffreddando ho aperto ovviamente allo sportello per fare la ripresa i resti volevo farvi vedere un po i residui di combustione sono molto belli ovviamente il pellet è sparito mai se ce n'è poco però c'è da dire che io ho interrotto la combustione quindi questo sicuramente si sarebbe combusto completamente ok questo è l'ultimo test pellet e favino al 50 per cento mezzo chilo e mezzo chilo il bracere è completamente pulito ho già fatto l'operazione di caricamento quindi accendiamo direttamente 15 53 allora sono passati circa 12 minuti dall accensione abbiamo la fiamma vediamo un po come dentro ovviamente bella ora attendiamo soltanto che vada in modulazione poi spengo tiriamo poi le somme ok siamo arrivati in stabilizzazione praticamente sono passati 22 minuti da quando abbiamo fatto l'accensione un'occhiata alla fiamma e la fiamma è meravigliosa guardate che bella che è non ho sentito alcun rumore di coclea ma appunto vale il discorso che ho fatto prima sulla coclea di questa caldaia che non è una stufa è giunto a questo punto posso benissimo chiudere tutto spengo pulisco e dopo magari esaminiamo le scorie nel cassettino perché l'ho tenuto pieno tra tutti i test che ho fatto vediamo poi di esaminare un attimino insieme e poi chiudo il video perché è stato veramente un video molto lungo e da stamattina che sono qui immagino che verrà un video veramente di parecchi minuti allora è stato un test molto lungo forse uno dei video più lunghi che ho fatto però ero curioso anch'io di vedere come funzionavano le varie semenze e ora vorrei analizzare insieme a voi i residui di combustione allora vediamo un po questo è il mais che si è biscottato tenete conto che molti di questi li ho tolti prima che finissero la combustione perché faceva un test dietro l'altro infatti vedete c'è ancora del pellet in combusto del mais in combusto volevo vedere ecco qui questo è un favino in combusto anche questo però in linea di massima i residui sono ben definiti e secondo me avrebbero potuto bruciare ancora parecchio è tutti quanti questi ok siamo giunti alla fine del video test empirici non sono un tecnico sono test che potete fare anche voi a casa io appunto avendo una caldaia e avendo la disponibilità di semi li ho comprati ovviamente vivendo però in campagna ci sono i posti dove andargli a comprare molto più facilmente che in città questo è ovvio no allora cominciamo dal peggiore dei biocombustibili passatemi la parola allora il favino non ha portato a termine l'accensione nella caldaia quindi già per questo lo scarterei poi è molto duro quindi per le stufe a pellet è scartato a priori perché la coclea ne soffrirebbe la mia molto più robusta perché una coclea per caldaia policombustibile ha un certo spessore una certa potenza quella delle stufe molto più piccolo quindi questo sicuramente lo scartiamo a priori non va bene al secondo posto proviamo il mais ecco il mais non mi ha dato alcun tipo di problema con la coclea sarebbe da provare su una coclea della stufa è perché comunque sono chicchi duri la parte combustione è stata discreta neanche buona l'odore sullo scarico era molto forte molto intenso quindi se vivete in un posto dove può dar fastidio questo lo scartiamo a prescindere però secondo me a trovarlo buon prezzo ovviamente un buon bio combustibile da mischiare ovviamente al pellet o al nocciolino per allungare un po però a 100 euro al quintale sicuramente non è una scelta idonea l'avena è stata una sorpresa allora l'unico problema rilevato è stato che alcuni semini sono passati attraverso il bracciere con fori da 3 mm non ci avevo pensato quindi quando l'ho visto poi in effetti mi è venuto in mente che questo è ben più piccolo dei 3 mm quindi ci passa comunque la combustione è stata buona l'accensione è stata buona l'odore allo scarico è stato discreto non ha dato fastidio è mischiato con il pellet secondo me è una buona soluzione anche questo ovviamente bisogna ritrovarlo a un buon prezzo altrimenti non vale la pena ma questo mi sa che vale per tutti i semi che ho provato sicuramente il migliore del lotto sono i semi di girasole questi hanno preso fuoco velocemente in otto minuti se non sbaglio l'odore lo scarico era inesistente non hanno dato fastidio hanno bruciato bene facevano una bella fiamma e ovviamente col pellet poi sono andati in più che bene ma già da solo questa semenza secondo me merita a trovarlo a buon prezzo ovviamente anche questo mi sembrava 70 80 euro al quintale qui da me però sia i semi di girasole che l'avena vista le dimensioni e visto che sono molto teneri come semi li potete utilizzare sicuramente anche sulle stufe bene dai è tutto per questo video mi mancano ancora gli ossidi delle ciliegie che sto aspettando e i gusci schiacciati rotti delle noci e delle noccioline sto cercando di capire dove comprarli se voi avete qualche consiglio per piccole quantità 3 4 5 kg scrivetemelo qui nelle nei commenti che li contatto sicuramente e acquisto così finisco un po di provare un po tutto quello che offre il mercato bene vi ringrazio per essere stati con me iscrivetevi al canale se vi fa piacere a voi costa poco lo dico sempre a me può fare la differenza se vi interessa questo argomento qui così come un po la vita in campagna visto dagli occhi di un non esperto quindi con tutti gli errori del caso ecco magari potete iscrivervi attivare la campanella così mi seguite uno due volte a settimana quando pubblico i video lasciate un like condividete questo video con i vostri amici se vi fa piacere se può essere utile a qualcuno che ha una caldaia una stufa pelletto policombustibile grazie per essere stati con me anche oggi vi auguro una buona giornata